Ciao a tutti e bentornati sul canale del gruppo facebook un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri il gruppo che sta dalla parte del lettore in questo canale scegliamo e leggiamo per voi le migliori recensioni pubblicate sul nostro sito non si tratta sempre dell'ultima novità ma di libri che ci sono piaciuti di nicchia insoliti dimenticati comunque da scoprire o riscoprire oggi parleremo di una stella di nome henry a star called henry romanzo scritto da roddy doyle nel 1999 primo capitolo di una trilogia il romanzo è edito in italia da guanda nel 2000 ma più volte ristampato con la traduzione di juliana zeuli io sono molto appassionata della storia recente soprattutto del d'irlanda quindi ho letto e recensito sul nostro sito molti libri con che trattano questo argomento quindi questo sicuramente non sarà il primo ma poi ci sarà una vera e propria serie di libri ad argomento irlanda che poi è un argomento molto che interessa molto anche sul nostro gruppo facebook quindi il libro che propongo oggi è un titolo di roddy doyle scrittore irlandese molto amato per la trilogia che vede protagonista la famiglia rabbit in questo caso invece siamo di fronte a una sua personalissima visione di romanzo storico henry smart è cresciuto per strada dopo che sua madre ha iniziato a perdere il senno rimpiangendo i figli morti neonati e dopo aver perso i contatti anche con suo padre un uomo con una gamba di legno di professione butta fuori ma all'occorrenza anche killer al sordo al soldo di un malabitoso henry il fratellino victor imparano così a vivere di espedienti nei vicoli della dublino dei primi anni del ventesimo secolo la morte di victor e l'esclusione da una scuola fanno di henry un ragazzo abido di vita e perennemente arrabbiato che finisce presto tra le fila dei rivoluzionari ma senza che in lui arda alcun vero idealismo dopo essere stato accolto sotto l'ala protettiva di james connelly henry impara a leggere e lentamente inizia a crearsi una propria coscienza politica ma prima che tale percorso di formazione sia completo e lui diventi un uomo il nostro dovrà passare mille peripezie scampato per un soffio alla fucilazione nel 1916 diventa prima staffetta per l'ira di collins in seguito si trova invischiato nella guerra civile del 1922 e dovrà ancora portare a termine una vendetta personale e coronare un particolare sogno d'amore narrato in prima persona con un linguaggio duro perfettamente attinente con l'ambientazione dei bassi fondi è un romanzo politico nel senso che si sofferma sulle profonde divisioni delle varie parti coinvolte nella formazione del nuovo stato ancora in bilico tra il desiderio di libertà e la sicurezza offerta dalla dipendenza dagli inglesi la narrazione frizzante ironica e attraverso la tragicomica storia di henry che brandisce la gamba di legno del padre come un'arma doyle ripercorre una parte cruciale della storia irlandese per sottolineare come accanto ai poeti da strapazzo e agli eroi le cui gesta verranno sempre ricordate si registrarono anche errori e atti orribili che finirono altrettanto per condizionare il paese se avete letto questo libro e volete discuterne con noi iscrivetevi al nostro gruppo facebook visitate il nostro sito o seguiteci su instagram trovate i link nella descrizione sotto se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici a presto e buone letture iscrivetevi al nostro canale